Guardare il crocifisso per salvarci dalla tentazione della mondanità, fare un esame di coscienza e compiere opere di carità, quelli che costano, per essere più attenti e vigili. Così Papa Francesco, nell'Omelia della Messa a Casa Santa Marta, commentando il brano di Luca sui demoni cacciati da Gesù. Demoni è evidenziato che lentamente entrano nella nostra vita, seducendo, cambiando i nostri criteri, mimetizzandosi nel nostro modo di agire, portandoci alla mondanità e quindi lontani dal servizio di Dio, rendendoci cristiani tiepidi. L'invito del Papa è stato quello di vigilare, di spezzare il gioco dei demoni, rivolgendo lo sguardo a Cristo. Vigilare significa capire cosa passa nel mio cuore, significa fermarmi un po' e esaminare nella mia vita. Sono cristiano, educo più o meno bene i miei figli, ma mia vita è cristiana o è mondana? E come posso capire questo? La stessa ricetta di Paolo, guardare Cristo crocifisso. La mondanità soltanto si capisce dove è e si distrugge davanti alla croce del Signore. E questo è lo scopo del crocifisso davanti a noi. Non è una ornamentazione. E' proprio quello che ci salva di questi incantamenti, di queste seduzioni che ti portano alla mondanità. E' proprio quello che ci salva di questi incantamenti, di queste seduzioni che ti portano alla mondanità.